Ben ragazzi qui è Ron, bentornati, eccoci con questo nuovo video, oggi ragazzi siamo tornati con il terzo episodio del Road to MVP su Battlefield 4 Oggi cercheremo per la terza volta appunto di riuscire a raggiungere la vetta di questa classifica È una serie che mi piace di brutto, mi sta piacendo tantissimo registrarla, vedo che sta succedendo anche a voi quindi sono contentissimo Oggi proverò, come avevo già detto nell'ultimo episodio, con le carabine, con questa nuova classe di armi che sono le carabine Cioè nuova nel senso che non l'ho ancora provata in questa serie E la fortuna delle carabine è che posso scegliere qualsiasi classe di gioco insomma per poterci giocare Oggi probabilmente sceglierò il geniere che è quella che magari un pochettino di più mi è piaciuta da giocare E che magari è anche bella da vedere perché andiamo in giro e cerchiamo di tirare giù qualche carro armato, qualcosina anche con i razzi Quindi deve essere abbastanza divertente Io adesso mi immergo in questa partita, spero che vi immergiate anche voi con me Durerà almeno una mezz'ora tra la partita ma ve la taglierò come sempre un pochettino per rendere la cosa più dinamica e vivace e meno noioso possibile Quindi a tra pochissimo, buona visione ragazzi, bella Eccoci qui ragazzi stiamo entrando in partita, siamo su Zavod E non sarà per niente facile, l'arma che userò oggi è l'Ace 52 CQB che ho visto che moltissimi di voi l'hanno consigliata Non mi trovo neanche malaccio, poi vedremo durante la... fermatevi intanto tutti quanti che ho bisogno di un mezzo L'hai occupato, ma vaffa, questo è libero, ok? Se no rimaniamo a piedi Comunque ragazzi sarà abbastanza difficile oggi perché il team contro ho visto gli ultimi 10 secondi della partita di prima Che sono entrato fortunatamente, ci ho impiegato una ventina di minuti a trovare una partita e ho trovato anche una mappa che non vi avevo ancora fatto vedere Sembra essere abbastanza tosto quindi sarà molto dura come cosa però noi ci mettiamo come sempre col cuore A cercare di portare a casa la partita sarebbe già un qualcosa di bello Magari comunque una buona prestazione personale come alla fine è la sede che vuole qua ci passo a pelo Ci mettiamo qua sotto Se ogni tanto guarderò di là è ragazzi perché sto avendo un po' di problemi con il microfono e ogni tanto salta Quindi potrebbe essere che salti durante la partita, si sentirà il rumor della web, cioè della videocamera che registra Appena me ne accorgo lo riavvio, attenzione siamo già in un punto molto critico Oh Cristo, quello è un cannoncino Nel dubbio, oddio quanti ne arrivano davanti raga Granatina Ci siamo scambiati le granate Lui mi ha fatto un po' male però Io non gli ho fatto un cazzo Attenzione, aspettiamo qua che è bella tosta La partenza abbiamo prodotto, adesso sono sei bandieri, siamo tre pari Dovrei aspettare che mi torni un attimino la vita Perché non ho neanche i miei kit, non ho niente quest'oggi Intanto sportiamo Vediamo se lo usciamo appena da lontano Grazie Gentilissimo Sì mi hai toccato la spalla per accogermi che ti dico Un secondo prima non c'era nessuno, va bene Ovviamente ragazzi ve lo dico adesso ma tanto Dovreste già sapere da migliaia di live che abbiamo fatto Che Battlefield è un gioco dove ci vuole tanta concentrazione Bisogna pensare a tante cose contemporaneamente Per riuscire a fare il tutto fatto bene Io spesso leggo tutti i commenti, li leggo solitamente Moltissimi commenti, consigli che mi date Cerco di sfruttare tutti Però ovviamente essendo in live devo cercare di parlare Commentare, tutto quanto Molte cose può essere che mi sfuggano al momento Ma non per questo magari non le so così Solitamente Quando gioco Oh aspetta sto parlando, sto parlando, aspetta sto parlando Stavo parlando Avevo il joystick, parlavo così io Con il joystick in mano così Tranquillo, vedete, basta Comunque sappiatelo Ecco io adesso cerco di fare il possibile Metto un po' di concentrazione ma con calma Vi ho fatto la intro, sempre le cose iniziali adesso Ci concentriamo molto di più Un elicottero qua sopra Ci sono tuffati Fermo, fermo, non sparagli che sono appena usciti da qua Eccolo qua Ok, via così Mi ho dimenticato di mettere il fuoco automatico Che qua si può cambiare Da lontano è ottimo fare colpi singoli con quest'arma È veramente Ottima Merda è entrato dentro È dentro raga, è dentro È dentro Bella, l'ho presa io Andiamo a riprenderci B Ci stanno togliendo tutto però Da un momento all'altro Cioè non va bene così Dentro Facciamo peso Che prendiamo la bandia Dai fratelli Oh, ce n'è uno di lì Ok 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 Forza che la prendiamo Forza che la prendiamo Le stiamo perdendo altre 1500 nel frattempo Non tutti qua Comunque Guarda che questa qua ormai è nostra Mica tanto L'abbiamo rischiata Oh Ok Salvata la bandiera C e D C e D raga Non possiamo lasciarli tutti e due in mano a loro Io qua andrei a fare un giretto Tanto qua ho visto uno che Vabbè lasciamo Ci sarà qualcuno che lo prenderà Qua È bella tosta Ma se non ho sbaglio Sono pieno di cecchini Ste squadre contro O comunque la partita di prima Vedevo che c'era un sacco con i cecchini Questo lato qua della mappa Solitamente Pullula Di cecchini Quindi Sta esplodendo tutto nel frattempo Ma è la cosa più bella Mi sta sparando Scappa Scappa in mezzo alle fiamme Oh Sì, sì, sì Dammi un bel caro armato Vieni qua fratello Madonna l'ho lisciato Aspettate Con calma Secondo Non mi No, è perché c'ho quello anche a piedi E ce ne ho uno anche lì L'ho preso Non so come Cambia Switcha veloce Switcha veloce Sì Ottima Cambia che ce n'è lì un altro Sì, raga Grande No, no, no Da sopra Ah, da dietro Vabbè, vabbè Ottima mossa Siamo primi ragazzi per il momento Eh, sono un bel po' qua sopra Eh, fratelli Andiamo a vedere da qua sopra qua com'è Com'è la situazione Allora Oh Stai scherzando Via, 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 via Scappa, 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 scappa Scappa, non l'ho fatto in tempo Devo ricaricare Vada lì, lì, quanti Ok, uno l'abbiamo preso Oh Occhio, 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 raga È qua sopra, è qua sopra, fratello Lo vedi? Io non lo vedo Ok, siamo qua in quattro Io mi metto dietro a voi perché devo recuperare quel poco di vita che mi manca Sta esplodendo il mondo Sta esplodendo tutto quanto È un elicottero È un elicottero Help Medico Medico Non c'è un medico in tutto sto team Team di stig... Annaggia a voi Eh, dobbiamo stare un attimino dietro Madonna mia, madonna Boca rolla tutto Lì sopra c'è qualcuno da spottare nel frattempo Allora Con calma Dai che prendiamo il dito Dai, ci stiamo prendendo il dito Dai, dai, dai Qua sto recuperando un po' di vita Sto respirando un secondo Ce n'è uno che arriva da lì Non vale... Quelli sopra io li odio, raga Perché non si capisce dalla mappa Sono sopra o sotto Spottateli voi nel frattempo, ragazzi Eh, io vi parlo Ma non mi state cagando di strisce Ma è importante quello Eccolo lì Ok, quello l'ho preso Vediamo se da qua c'è qualcun altro dentro No, non sa che sono sotto Saranno sotto Sono sotto, sono sotto, sono sotto Ce l'abbiamo fatta Non so come Siete voi dietro, raga Bravi Ok, proviamo a rientrare da sotto Hanno cinque bandiere loro, raga Io più di così non posso fare Ovviamente io È la prima partita della giornata Come al solito E quindi si tiene tutto E non posso Da solo vincere una partita su Battlefield 32 giocatori Porca troia L'avevo ucciso Ma se avevo cinque amici miei dietro Fino a mezzo secondo fa Perché mo' non c'è più nessuno Bom, colpito Uno è lì ma me ne fotte il cazzo Disattivato Ok, l'hanno distrutto loro Oh, ce n'è uno qua dietro Dai, dentro a prendere B Dai, raga Pian pianino possiamo Sono sotto di 130 punti Questa È tostissima Però ogni tanto qua cerchiamo Oh Dai Dai, dai, dai Boom Assistenza uccisione L'abbiamo disattivato in due È arrivato un secondo prima il mio polpo Vabbè Dai, ripartiamo qua sopra Che ce ne sono un bel po', eh Dai, qua sopra Voi spottate lì Che io li... Eccolo lì Preso Oh, l'ho rischiata un pochettino 41 di vita C'è uno ancora lì C'è ancora uno lì C'è ancora uno lì, fratello Fratello Ok, l'abbiamo preso Un altro lì avanti Occhio, 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 occhio là Io, ragazzi, sto parlando Che i miei compagni Non mi stanno cagando minimamente Ma è bello quello Io mi immergo Guarda lì che la stanno cerchiando Cioè, non vi fate segare tutte e due però Ce n'è uno qua Ce n'era uno qua Non c'è più Ok, la vita ce l'arribiamo tutta da capo Via così Sto per morire Sto per morire tra pochissimo Sto rischiando tantissimo Oh Ora qualcuno magari lo prendiamo Sì, presi tutte e due Presi tutte e due Ce n'è un altro lì Facciamo il giro da dietro però No, zero di vita No, ma... Zero di vita Zero? Cos'è? Zero di vita? Zero di vita E camminava Continua a camminare È uno zombie Lui è uno zombie Ma come cazzo? Torniamo su B B, guarda Ho un team di persone svogliate Eh, però questa non me la tirate via Questa ti giuro che non me la tiri via Questa non so se è... Bene Ha deciso che... Di passare attraverso... Un muro E ha fatto crollare tutto quanto Va bene, dai Attenzione Fratello Non si fa così Niente ragazzi C e D ce l'hanno loro qua Sarà una lenta morte Ma noi voglio... Io devo riuscire a resistere lo stesso Fare il mio mestiere Il mio porco mestiere per sta partita Colpito Aia Figa Oh Dov'è finito il raggio? Vediamo se lo becchiamo Sì Across the map Sto scherzando Sto scherzando Chi è che mi sta... Oh 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 o l'elicottero no Non posso fare niente Non posso fare niente Please Please 31 di vita scappa Please No 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 No! Pezzo di merda Aspetta Io gli elicotteri Mi piacerebbe tanto guidare Ho provato a guidare un elicottero Mi sono alzato Ho fatto 5 metri E mi sono ribaltato Ci ho provato più di una volta Devo ancora capire bene Non sono un pilota Non sono un pilota È una cosa che non sono un pilota Per un cazzo un pilota Tutti su B Ragazzi la difesa strenua di B Alla fine per non fare Proprio l'all in Stiamo prendendo E Abbiamo preso E Clamoroso Resistessimo qualche secondo in più Posta l'entrano dentro da qua È bello No 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 Vieni qua da zio Ronnino Ok Oddio oddio quello no Da che ti lo tengo occupato Un cazzo Un cazzo È ucciso in azione Perché sta crollando l'edificio È il secondo edificio Che mi crolla in testa Io purtroppo mi capito Nei punti sbagliati Al momento sbagliato Su A stanno arrivando Madonna Madonna mia ragazzi Cioè ma C'è qualcuno che Mi dà una help No pezzo di merda Ma guardati Cosa è questo Guardati questo Aspetta Dove stanno tutti quanti gli altri Oh Oh Ole No eh Questa la teniamo noi Io tolgo Il laser Perché tanto No da vicino servirebbe L'ho messo così Giusto per quando Per le evenienze Insomma L'abbiamo presa Oh Fanculo Oh Pezzo di Che cazzo Posso cregarmi sotto così Ce n'è un altro lì È qua sopra È sopra Sono sopra qua Sono sopra di qua Allora Aspetta che Che noi andiamo a fottere Sì 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 Bene Eh ragazzi Io sto facendo il difensore totale In questa partita Ma se non c'è qualcuno Che dia una mano in avanti 518 A 242 Purtroppo Il team nemico È troppo forte Noi di orgoglio Tiriamo Avanti Quelle lì Questo è un ottimo posto Per tirare un carro armato Guardali Quanti sono lì sopra E ciao Allora Aspetta Il carro armatino Mi sta molto simpatico a me Non molto Proviamo da qua BOOM Era già ferito E dai così Tutti subì Raga Subì Oh Io difendo A e B Faccio l'impossibile Ma guarda solo Battlefield è troppo Un gioco di squadra Raga 32 Me la stanno fottendo Però dove cazzo Sono i nemici Eh arrivano di là Arrivano di là Fratello Ok Quello l'abbiamo preso Quanti sono Guardate la mappa Ragazzi E' giusto a vederla Sono infiniti E io Tra due secondi Sono morto Però Teniamo calma la vita Appena li tiriamo giù Tutti quanti Andiamo a riprenderci Quello che è nostro Fuori un altro Dai che ora Riprendiamo Di cuore Sopra qua Ecco la stiamo riprendendo Pian pianino Oh è lì sotto Oh è lì sotto No Momento Devo capire da che parte sono Qua sono da solo Se ne sono troppi Qualcuno che rinasca su di me Vabbè Ci stiamo avvicinando Pian pianino Eccolo Pezzo di merda Colpo singolo Ok Aspetta 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 T'ho visto T'ho visto Stroncone Ok T'hanno preso Ok Ragazzi La stiamo prendendo La stiamo prendendo La stiamo prendendo Mi metto qua Un attimino Tutte le bandiere Le stiamo prendendo Tranquillo Adesso ci svegliamo Adesso Allora Ok 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 Dai che la prendiamo Ok Preso anche quello Sta macchinina qua Che non è una macchinina Anzi qua c'è un nemico Che dovrebbe salire Da qualche parte Devo fare fare Un brutto diretto Allora Aspetta Sto rischiando Tantissimo A fare Sta cosa Non mi sembra Di averne visto Uno qua Che cazzo Gli dropshotto Perché ho dropshotato Che stanno su Battlefield Ma ha funzionato Con 3 di vita Ha funzionato Un secondo Che mi metto qua Niente Eh niente Eh non avevo più vita Comunque Dai raga 6500 2611 Stiamo andando Abbastanza bene Per il momento Dai Oh qua c'è uno di spalle Che sta salendo Di qua Fermatelo Non l'avevo visto Che aveva fatto il giro A me l'elicottero Mi sta sul cazzo Mi stai sul cazzo Dai Stiamo perdendo tutto A Anche A Biampere Tutto Torna su B Torna su B Mission impossible Questo Perché non è batto Il figlio Anche qua Ti uccidilo Non so come ho fatto Siamo andati in 32 Occhio Che cade l'edificio Occhio Ce n'è uno sopra Ma occhio che cade l'edificio Ce ne sono troppi qua Troppi Troppi Scappa Tutti qua sono Regà Aspetta Impuniamoci In mezzo alle macerie La stiamo riprendendo Per la Ennesima volta No L'ho preso un cazzo Mi sto abbassando io In real life Eh signori Qua Ci hanno arato È finita così Signori Ragazzi È finita la partita 427 a 0 Ci hanno demoliti Siamo arrivati i primi Però Siamo arrivati i primi Quindi Allora Il rotto MVP Dovrebbe A quanto pare Essere Cioè Abbiamo ottenuto Il risultato Di quello che doveva essere La partita Anche perché comunque È andata male L'abbiamo straprese Ma come ho sempre fatto In questa serie Nei ROAD Io prendo la prima partita Che mi capita Durante La giornata Cioè Ho preso dentro il microfono Che bello Comunque Aspetta un attimo Che esco La partita ve la carico Ovviamente comunque Siamo riusciti a quanto pare A fare il rotto MVP Siamo arrivati i primi Ma non abbiamo fatto La vittoria di squadra Che comunque Poteva essere quel Qualcosina in più Che rendeva Ancora più spettacolare E epica La partita Comunque penso che alla fine La partita sia stata Anche abbastanza piacevole L'ho giocata anche abbastanza bene Non malissimo insomma E niente ragazzi Cosa posso dirvi Il rotto MVP Dovrebbe essere finito Per Quello che è il rotto MVP In sé Però comunque Io Battlefield Mi diverto Mi sto divertendo un sacco Fatemi sapere voi Cosa potrei fare Magari nei prossimi episodi Potrei andare avanti A fare un rotto MVP Ad esempio Con tutte le altre Classi Perché questa volta Col geniere Abbiamo fatto Siamo riusciti a ottenere La vittoria Del rotto MVP Potrei provare A fare rotto MVP Con tutte le altre Classi O potrei comunque Provare a fare Rotto MVP Più vittoria Della partita Dato che questa volta Non ce l'abbiamo fatto Insomma Voglio poter portare avanti Questa cosa Anche nei prossimi episodi Io comunque Spero che il video Vi sia piaciuto Che siete divertiti Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Al video Che gli ultimi video Sarete a 10.000 Quindi veramente epico Sono veramente contentissimo Mi fate veramente contento Che non potete capire Vi ricordo di passare Dalla pagina di Facebook Che vi lascio sempre In descrizione Sotto ogni video Ma è difficile da trovare C'è una ricerca Perché avevo fatto il nome Mesi e mesi fa E quindi è difficile da trovare Vi lascio sempre La pagina sotto in descrizione Scusatemi La potete trovare lì Seguitemi anche lì Che è un modo migliore Per poter chiacchierare e parlare Detto questo Finiamo con l'auto Che è durata un'infinità Vi ringrazio per aver visto il video Ragazzi Al prossimo video Qui alla Ron Bella